I giovani della consulta sono al lavoro con alcuni appuntamenti che riguardano il mondo dello sport. La consulta dei giovani di Crusone organizza per il quarto anno consecutivo la festa dello sport, una festa attua a promuovere le società sportive del territorio e appunto questa manifestazione sarà sabato 13 settembre. Quest'anno abbiamo voluto aggiungere alla festa dello sport anche due appuntamenti, due conferenze che saranno una venerdì 5 e una venerdì 12 settembre. La conferenza di venerdì 5 avrà come tema i giovani e lo sport, lo sport come mezzo di crescita di giovani e anche lo sport come riscatto per i giovani, quindi tutto quello che può centrare fra i ragazzi, i bimbi, la loro crescita con lo sport. Un relatore di eccezioni sarà a questa conferenza che sarà Vittorio Boggio che è presidente del CSI di Bergamo e vicepresidente vicario del CSI nazionale. Insieme a lui ci saranno molto ovviamente anche altre personalità e vi aspettiamo come primo appuntamento venerdì 5 all'auditorio delle scuole elementari alle ore 20 e 30.